felicità raggiunta si cammina per te su fil di lama agli occhi sei barlume che vacilla al piede teso ghiaccio che si incrina e dunque non ti tocchi chi più t'ama se giungi sulle anime in vase di tristezze e le schiari il tuo mattino è dolce e turbatore come i nidi delle cimase ma nulla paga il pianto del bambino a cui fugge il pallone tra le case due strofe di cinque versi ciascuna è evocata l'emozione della felicità ma è una felicità incerta e soprattutto precaria alcune immagini lo dicono la felicità è camminare in bilico sul fil di lama è barlume cioè una luce tenue che rischia di estinguersi presto è teso ghiaccio un teso cioè sottile che quindi può incrinarsi da un momento all'altro di qui l'augurio che chiunque desidera veramente la felicità non la raggiunga mai un'ultima immagine c'è di precarietà nei versi finali è l'immagine del pallone che sfugge dalle mani di un bambino e si perde tra le case le immagini della felicità instabile si allineano in una sintassi piana e paratattica il ritmo è pacato questo nella prima strofa nella seconda strofa non è così il ritmo piano si scuote la prima parola della strofa è se è la prima parola del verso e introduce una frase ipotetica che occupa i versi successivi movimentano il ritmo anche le forti spezzature gli enjambants una al verso 6 in cesura anime in vase un'altra tra il verso 6 e 7 in di tristezza un'altra ancora tra il verso 7 e 8 il tuo mattino soggetto e il predicato al verso successivo è dolce e turbatore eppure tra le due strofe un solido legame assicurato dallo schema metrico robusti indecasillabi con due sole eccezioni un settenario al verso 2 e un verso ipermetro che è poi ancora un'endecasillabo a cui è stato aggiunto un quinario al verso 8 entrambi questi versi insistono sul tema dell'agitazione indotta dall'emozione di felicità il settenario con l'immagine del muoversi sul filo di una lama l'ipermetro con l'immagine dei nidi sotto il tetto la gazzarra degli uccelli robusti indecasillabis è detto perché tutti con cesura maiore e dunque con ictus fissi su p10 e p6 e 7 versi su 10 hanno ictus in p2 insieme alla sintassi costruiscono il saldo impianto ritmico del testo a questo ritmo in sottofondo terrestre continuo ctonio da il suo contributo anche lo schema delle rime rime alternate schema non intaccato neppure dal verso 3 che è l'idea dunque l'idea è che essere felici è un caso può accadere può non accadere quando accade lo stato di felicità è fragile è precario questo evocano le immagini del testo ma il testo stesso dice anche attraverso la sua sintassi il suo metro lo schema delle rime in una parola attraverso il suo ritmo il testo stesso dice la certezza dell'incertezza la stabile precarietà della felicità